Cici Tumasala è stato il poeta dei poveri, degli ultimi, dei soslari bianco, così poveri che bastava guardarli in faccia e le labbra bianche rivelavano subito la loro condizione. Lui voleva parlare del mondo, però partiva sempre dal suo paese, forse perché diceva che Tolstoi, Leone Tolstoi in persona, una mattina gli aveva dato un suggerimento importante. Io sinceramente non ho mai capito com'è che i due riuscissero a incontrarsi, anche perché nel 1916, quando è nato Cici Tumasala, Tolstoi era morto già da una decina d'anni. Ma al di là di questi dettagli, Cici Tumasala diceva che si frequentavano spesso, si davano del tu e che addirittura parlavano sempre, solo, esclusivamente in logudorese stretto. Francesco, Cici Tumasala, ehi, Leone, guarda, guardami tutto. Ascoltami bene, Cici Tumasala, tu non devi scrivere a New York, a Parigi, a Londra, chi sono in settimana di sé, chi non conosce, e se non, vanno a passare a un provinciale, se tu vuoi che devi diventare universale, Cici Tumasala, tu devi scrivere il suo sconto di e questa vita, tu hai la sua ragione. Tu hai la sua ragione, Leone! Deo ti calzo buonneri in mente, a passare il suo consiglio di tu! Deo ha per scrivere il suo sconto e la sua vita malevadata, questa vita mia, di Lughe di San Nicolò, di Arasolè. Grazie a tutti!